Action, Lord, Vincent, Lionheart, Lampi del pensiero, libero, erotico e quotidiano. Cari amici e carissime amiche, il titolo di questa poesia è Tra le vie di questo mondo. Nati per lottare, per andare avanti, per cadere, per sudare, per sanguinare, per tornare all'assalto, per bruciare fuori e dentro, per scatenare il giusto inferno, per tendere la mano a chi ha di bisogno. Nati per salvare le dame, gli anziani, i bambini, per riportare il sorriso laddove c'è il pianto. Per navigare nell'ignoto e scovare ogni suo incanto. Nati per realizzare il sacro sogno, per lasciare un indelebile segno tra le vie di questo mondo.